Posso suggerire un bel libro di scienza da regalare per Natale? Eccolo qua, si intitola DNA Nation, parla di tutto quello che possiamo fare oggi con il nostro DNA senza neanche uscire di casa e senza neanche andare in un laboratorio. Piccolo disclaimer, il libro l'ho scritto io e racchiude tutto quello che io ho raccontato in questi anni nelle mie conferenze, nei miei articoli e che riguarda appunto il nuovo mondo della genetica personalizzata. È un libro scritto in modo molto semplice, ogni capitolo spiega e racconta un aspetto pratico di questa tecnologia, c'è un capitolo su come ho incontrato i miei parenti online e su quali sono le prospettive e i rischi di queste attività, c'è un capitolo sull'identità, c'è un capitolo su come si possono usare questi dati per risolvere cold case e crimini, ce n'è uno sulla dieta del DNA, funziona, non funziona e molti altri. Ci sono più di 20 cose diverse che possiamo fare con il nostro DNA senza muoverci di casa. Come funzionano queste applicazioni, quali sono i rischi, come possiamo anche tutelare la nostra privacy e la nostra sicurezza in questo nuovo mondo è tutto quello che racconto in questo libro, che ha un solo difetto, non è in italiano ma è in inglese, l'edizione italiana ancora non c'è, ma se volete fare un bel regalo a qualcuno che capisce l'inglese o a voi stessi e allo stesso tempo sostenere le attività di divulgazione che faccio, è il momento giusto per acquistare questo libro, lo trovate tranquillamente su Amazon, anche nello store italiano, se lo ordinate oggi lo avete prima di Natale. Se volete vi mando anche la dedica firmata per email, DNA Nation, mi raccomando.